Tutto pronto per la prima di campionato in programma sabato prossimo contro l'Olimpia Riccio allo stadio Pasqualino Ferrante di Piedimonte Matese. Ultimi due giorni di rifinitura in vista del match non certamente difficile sulla carta, ma il Treppini ci tiene a partire col piede giusto. Il capitano del Piedimonte Marco Di Matteo parla della gara con il nostro Emilio Bianchi che lo ha incontrato nel corso degli allenamenti. Marco Di Matteo, ormai si è diventato tu il bomber del Piedimonte? Io faccio quello che serve alla squadra, se dovesse servire fare tanti gol spero di farli per aiutare la squadra a raggiungere grossi traguardi, altrimenti farò il possibile per far sì che anche altri compagni riescano a realizzare molte marcature. Questa nuova avventura senza Napoletano? Sicuramente abbiamo perso un grande attaccante, adesso è arrivato Vincenzo Varricchione a darci una mano e non so se la società farà qualche altro movimento, comunque lo stesso abbiamo un grosso organico per sopperire all'assenza di Daniele. Ecco la partita di sabato? La partita di sabato, essendo la prima partita, sicuramente nasconde delle insidie, comunque è contro una squadra che è ormai abituata anch'essa a fare questi campionati, sarà la prima davanti al nostro pubblico, quindi speriamo di ottenere il bottino pieno. Se dovessi scommettere su una squadra quest'anno? Ma quest'anno da quello che ho sentito ci dovrebbe essere molto più equilibrio rispetto all'anno scorso, in quanto i giocatori più bravi si sono distribuiti nelle varie squadre. Dallo Stadio Pasqualino Ferrante è tutto, Emidio Bianchi per casertasera.it